A Procida con l'assessore Lauro per parlare di un argomento che molto spesso divide, proprio il caso di dirlo, quello dell'ufficio tecnico. A Procida, ma quest'ufficio funziona o non funziona? Oggi l'ufficio ha una configurazione completamente diversa. Abbiamo tentato di mantenere l'organizzazione precedente con un responsabile dell'ufficio tecnico e tutta una serie di materie all'interno che riguardava sia la parte pubblica che l'edilizia privata, quindi lavori pubblici e privato. Oggi possiamo dire che con un'azione importante che abbiamo portato avanti in Giunta abbiamo separato le due aree, quindi avremo e abbiamo oggi un responsabile per l'edilizia privata, l'urbanistica, la paesaggistica, per il condono e abbiamo anche un responsabile per i lavori pubblici, il demanio, la pianificazione territoriale e l'ambiente. Con questa nuova organizzazione io sono sicura che riusciremo a raggiungere degli obiettivi importanti, anche perché noi con tutto quello che è accaduto da un anno e mezzo a questa parte, per quanto riguarda i lavori pubblici e l'ambiente siamo riusciti comunque a mantenere i cantieri aperti, a continuare a non perdere i finanziamenti, quindi tutta la procedura a parte amministrativa è stata portata avanti, ma avevamo bisogno di un responsabile che si dedicasse solo a questo. Oggi noi dobbiamo raggiungere un altro obiettivo fondamentale per la Regione, che è quello dell'approvazione del POC, del piano territoriale, comune territoriale, ed è fondamentale per risolvere una nostra antica questione che riguarda l'incompatibilità dei piani. Quindi sono contenta che anche il Ministero ci ha autorizzato a questa separazione, perché quando poi viene presa una decisione in giunta deve trovare poi anche, essendo un Comune in predissesto, l'ok della funzione pubblica, quindi da Roma ci devono dare l'ok e oggi possiamo dire con soddisfazione che attualmente abbiamo una pianta organica che ci soddisfa.